Essere il main partner di Room Startup Week ci ha dato la possibilità di incontrare tante realtà innovative e di far conoscere anche tutta quella che è la nostra offerta che possono utilizzare per la loro crescita, a partire dai nostri prodotti finanziari, l'assicurazione del credito, le nostre garanzie, fino ad arrivare a tutta quella che è la nostra offerta education, spesso adatta nelle prime fasi del ciclo di vita di un'azienda.